Totti e Noemi, niente crisi, cosa fanno durante Roma e Empoli? Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono lasciati? Assolutamente no. Da giorni non si fa che parlare di una presunta crisi tra i due ma ci ha pensato la bella 34enne a mettere a tacere ogni male lingua. Durante la partita tra Roma ed Empoli la flower designer ha postato una storia su Instagram in cui comodamente seduta sul divano del nuovo attico di Roma Nord dove ha traslocato di recente con il capitano.